Samsung ci propone Business TV, la soluzione perfetta perché ha un'attività commerciale da gestire e promuovere. Dal negozio al bar, dalla palestra al salone di bellezza, Samsung Business TV è l'ideale per intrattenere e informare la clientela. Si tratta di un prodotto unico sul mercato che riunisce caratteristiche davvero particolari. Vediamole nel dettaglio. TV e cartellonistica digitale in un unico schermo. Estrema facilità di utilizzo grazie a 150 modelli di videocomunicazione preimpostati. Prestazioni e affidabilità. Samsung Business TV è pensato per durare nel tempo. Garanzia di 3 anni per uso commerciale. Al giorno d'oggi sappiamo quanto sia difficile acquisire clienti, conquistarli e fidelizzarli. Bisogna prestar loro grande attenzione, informandoli ed intrattenendoli nel modo giusto. Samsung Business TV nasce proprio per rendere più efficace la comunicazione in store. Questo 48 pollici Full HD, disponibile anche nel formato 40 pollici, può essere utilizzato nel modo classico come un televisore dalle caratteristiche video al top, ma al tempo stesso riesce a trasmettere messaggi promozionali sia a schermo intero che nel particolare formato picture in picture. Per riprodurre al meglio i messaggi personalizzati, vi sono in dotazione ben 150 template grafici nei quali integrare testi, immagini e video. La gestione e il caricamento dei contenuti è difficile? Niente affatto! Avviene comodamente da computer o smartphone, tramite il wifi integrato. E tutto con una facilità davvero sorprendente, grazie al software di gestione Magic Info Express. Bello da vedere e facile da installare grazie alle staffe integrate? Samsung Business TV è progettato per funzionare 16 ore al giorno, 7 giorni su 7, con caratteristiche di primo ordine che ne garantiscono l'estrema longevità. Proprio per questo Samsung, per l'utilizzo commerciale, fornisce ben 3 anni di garanzia. Samsung Business TV è un prodotto professionale, in grado di offrire un'esperienza di visione unica alla clientela. Valorizzare l'attività commerciale migliorando il business oggi è più semplice, grazie a Samsung!